Ok, fammi vedere che ci sta mettendo tempo a caricare E texture tutto Minchia quanto tempo ci metti a caricare i texture, fratello, sorella Eccoci qua, bene, partiamo Vabbè? Eh, sì Ok, a posto Volevo un atto ad essere sicuro Ci voleva questo cacchio di latte E se c'è gente che ci lamenta che sto bevendo il latte mentre giochiamo sti cacchi Prendiamo munizioni, munizioni Ma, di nuovo qui? Noi eravamo dall'altra parte No, qui a Fredo, è sempre salva... Dove sempre versano le macchinette Ah, aspetta, 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 togliamo di mezzo Già, ha ragione, finito le munizioni Grazie mille, coglioni Poi, 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 quanta gentiletta Per cavaliere, questo è il cavaliere nero però No, cavaliere duro Cavaliere nero non muore mai Ebbè no Oh, è morto, è morto Eh no, era il cavaliere duro E no, perché sei che è il cavaliere duro, capito? Ho sbagliato il nome Di cosa incontriamo il cavaliere nero? È qua? No, questo è il cavaliere duro Ho fatto male più del previsto Che ovviamente i soldi Ok tagliamo di qua, tanto già abbiamo fattuto con la cosa Cioè forse sono respawnati i nemici Tipo è infatti, te lo ricordi lui? Sì, a quanto parete anche i bambini E i nani Sento dietro di te, è uno scheletro Sì, 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 io sto facendo tutta una corte Se lo farei premio Ah, retto Mamma, quanta gente Madonna, ma quanta gente brutta Ho notato E' un po' Minziga Ma manca proprio che è stato a livello 11 Tu vedo come si è messo Sono sì, manca l'ultima tacchetta Io Andiamo sopra, andiamo a trizzeria Andiamo a dove c'è Di qua, di qua Ma, di qua Non puoi affrontare altri nemici No, 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 pure dove c'è l'ha la grotta Per cui ho fatto il ciclo d'acqua Perché c'è ancora stupizio qua No, la grande si si sa C'è un modo invisibile No, vado a salire Cacchia di Gigi Quando ti ricordi male proprio È un senso orientamento alla ryoga proprio male Sì, sì Allora perché ho trovato l'ingresso a la caverna E perché noi abbiamo già fatto la missione Non ti guardo, no, dobbiamo andare lì E guardo dove il puntatore, dove sei tu Ok Vai come dici tu Poi ne parliamo poi spero di sì per se lo sto mando mostri amore a mano è questa grotta dobbiamo andare ma è buongiorno nell'altro prodotto c'era il tizio che non ci apriva buongiorno cioè che fosse con la lì per maio te sei come rio gai zoro oltre il comune si mettono a farlo non mi ricorda come al cavaliere che troppo guarda da loro per cascina riuscire a prendermi un voto di roba spetta tutti forzieri l'avevo per tutti tranne qualcuno ha lasciato qualcuno uomo e costa ita livello sono uno sciaracone di proiettili per l'era ecco a quella giusta c'è che un coso viola a prendere per tantissimo facendo fuori nemici aspettavo 15 si deve seguire il giusto in diamanti per terra lo so vedi abbiamo perso tempo qui solo per capire che cacchio fa perchè quando ci arrivano alla forza c'è un negozio eh si però qua non ci siamo fermati infatti pensavo che cominciavamo da qua invece il gioco dice già dobbiamo cominciare da là quindi ok li ho tutti simpoli ora se avessi scommesso avresti perso tutto il allora c'è qui non abbiamo ancora esplorato effettivamente è ovvio aspetta che è successo ah dietro non le rotti i vasi ci sta un vaso si si l'ho spaccato adesso no ce n'è uno lì altro ah mica lassù guardalo tolte allora vedo una stregone di quelli che diventano invisibili ah ok vedi noi dobbiamo arrivare vedi anche tu che c'è lo scossino blu in mano si ma noi dobbiamo arrivare fino a lì sopra praticamente quello mi stai dicendo dove arriai là ma no oh immagini che finiamo il gioco fra qualche registrazione vabbè tu consigli che stiamo giocando un bel po' un'arma nuova pare quanti c'è le bastardi il missile magico comunque può anche essere è forte è forte che crede mi hanno chiamato ah vai tranquillo eccomi scusa che io ho sapeva che andatemi così eh ho sapeva ma stai tranquillo dai ma aspetta ma lo dico è una rottura di cui io ci sei ignota? sì ci sono ci sono è una rottura di cui intanto sei andato a fare stragi deficienti allora no io ho sapeva che andava a finire così allora ogni volta che mi andate andate a mare oh mio 3000 cose scorta poi ah ho caffè e te lo faccio qua no no non fai sopra che mi piace quello che fai tu e allora tu devi salire sopra puoi riscendere poi ah sta riandando la rosetta la sua amica mi prende la roba e portarla fuori e che cazzo è che deve essere clienti no e magari ma intanto sto ancora registrando poi tutta la fascia la taglierò ma io taglio tutto rieccoci scusatemi se avete sentito qualcosa anzi è un uomo impegnato è un uomo impegnato tranne con donne eh no ho trovato una donna eh ma vabbè però detto così sono talmente malissimo è bruttissima sì tagliala ecco mamma mia vabbè però se era una misceluzione per me porca miseria vabbè quella è ancora riporta bene in tutto ciò tutto io so più avanti te adesso ma ti ho visto la dietro la dietro la dietro la dietro la dietro ma non si apre ho già provato io ma vedo con una cosa che lasciato ah sono munizioni che non potevo prendere perchè sono già pieno per l'ora dammela ma perché io non cattino ho poco poche munizioni intanto al baracchino indietro delle munizioni vabbè però prendo qui a sto punto che mi danno fastidio che si vedano qualche munizione ok allora stavo dicendo no comunque lavora lavora e ospite signori non mi lasciano in pace neanche un po' e poi mi domando perchè non fai live e non hai tempo di fare quello e ci sono tante motivazioni anzi fatemi caricare anche il cellulare che se no cae alla fine per tutto il tempo che lo uso ragazzi cae alla fine cioè infatti stava già al 50% il cellulare dai 50 ragazzi crollò una bellezza sembra che precipitano allora cosa c'è qui il posticino il posticino è bello soleggiato tonno se non è scritto rossa ok è scritto la città della gente lenta che sono buoni ok sono loro ci stanno aspettando vedo un albero brucson brui di questi no sono loro questo sono quelli di lai cavaliere al piano questo parla con la dalle il prodotto dai il frutto sanguignosi è giorno ci hai preso super fantastico stregone nuota usci no 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 merda c'è c'è un po' tradito o sbaglio perché è il cuoricino che cacchio è uscito traditore è la mia torretta il cuoricino è un po' potenziata no cura in base ai danni che fa il custode era in realtà il vecchio stregone travestito colpo di cera alle spalle combattuto per la regina mi mancava per la regina ahia qualcuno mi ha colpito malizza alle spalle ah ma gli stavo facendo male realia ciao ma che sei vuoi dei signori degli anelli ma vero che sembra un po' sauro finisce ho fatto campanato poi il mio ahia ahia alle spalle quella merda alle spalle e poi cazzo è troppo forte la madonna sento che so chi uccidere non riesco a promuovermi ok so io che uccidere so io che uccidere uccidi qualcuno eh ho ucciso il gigante sei rianimato? no no devi ucciderlo più una scheletrica di merda eh quel bastardo ah no però ha ucciso il grosso il re ucciso l'ho visto ma forse l'ho ucciso io quello lì sai ma sei un bastardo di una spalla ma con quel poco di vita avete forse non lo so ma dai con quel poco di vita però l'avevo fatto io fuori no non mi fa passare sembra che c'è una barriera qui ah no ok io che stai combattendo? scusate no è ancora ma ci sei ci sei no è di che ancora ma è una testa è la testa da uccidere merda abbiamo fatto fuori una parte eh non tocca l'altra adesso è tipo trasformato qui è diventato crono fantastico sì però te io divento quel bastardo con la spada quello là non posso fare nulla con questo ma posso curarmi? sì qua vieni dove sono io prendi così rossi qua non mi sta dando non mi sta dando non mi sta dando non mi sta dando di premere l'aere di premere riuscire a premere non ha funzionato no ma no no cazzo ah ma io ho franzia rianimato non te lo fa rianimare eh no perché mi allontanano da te no non riesco munizioni finite devo fare un giro arriva ti detesto eh non posso avvicinarmi lì eh ma muore quel bastardo ci voglio anch'io no no non mi morire mi servi vivo ancora per ora eramo fuori che non mi cura vedi che non ti cura è colpa di quel coso quel tizio non ti fa curare ti blocca le cure? sì ha senso? eh sì ma chi è? ah però bisogna uccidere la testa con la stessa forma in testa bisogna ecco ciao ok sono a battergli la testa praticamente è bello ho un punto vita sì dov'è la testa? non la vedo è una testa che vola hai visto? sì 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 so cercare di prenderla sì vaffanculo vedi ora ti cura questa merda oh ancora vivo questo non gli è staccato la ancora un altro ma quante volte può rincarnarsi questo? ah no l'idea non vorrei che ci fosse qualcosa da fare no no perché ne esco tanti lui uccide uno e ne pare un altro scherzo ammazzato e basta sì eh ma infatti anche perché ho finito i colpi ma sconf ma deve essere un modo per sconfiggere ma non può andare avanti così all'infinito ah casse di colpi bene faceva strano che non c'erano colpi oh energie in che senso no energie e tu non è già perché se uccidi qualcuno mentre sei a terra a tiriani non so neanche come ho fatto ma sai quando è stato il mio amico quando sei a terra no no il mio amicone che ha uccidito gli ha fatto di uccidire perché non potevo uccidere nessuno ok dove è finita non lo vedo più te lo dico io perché sta là lo vedi? lo vedi? bello bello lo avevo fatto malissimo anche questo che ti è venuto proprio addosso dove è finito? il tetasporto sto merda non vorrei che si si trasformasse di nuovo ma ma è ancora vivo? sì ora ne so più qualcosa di buono qualcosa di buono qualcosa di buono faccio lanciare qualcosa un'arma vuole ah è rinato eh ma questo è un'arma allora sono tipo tutti in azgul cos'è genere? ok su ti idrati tutti in azgul sai che sono 9 sì 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 esatto no ti prego no se arriva anche angomara alla fine e poi ti faccio il fucile elettrico e non lì lui è immunale l'elettricità intanto si chiama azar questo sento che lo sto tenendo testa hai un testa li fai critici eh io gli lanciatello è perché il suo punto debole è appunto picchi altro amico sì cazzo dove finirò eh il mio testa volante però vedi dura di meno adesso rispetto a poi a prima sono durati di più quelli bello mo basta io l'ho preso no l'ho preso io quel cazzo ah i 1180 punti li ho dati a me poi no anche a me ah allora sono condivisi però guarda quanto roba lasciato qua ehm ho raccatto tutto ah mo ti cura non ti faccia curare quella merda qui c'è una mitraglietta e un fucile a pompa che brucia la gente se ti interessa no però ho trovato una una pistola blu che è figa beh c'è specifica ehm no a me interessa ho troppe munizioni franello bello mi sei passato cosa ho trovato oddio ma che cosa mi è uscito bellissimo pistola elettrica è quella che c'è qua per terra costum dal tonico che cosa è che cosa buono ho sbloccato cosa che non devo sbloccare la pistola ok volevo solo rimuovermi qualche granato perché veramente ho troppe granate strane ehm aspetta scarta ehm ok ho trovato una cosa molto molto interessante dove sei qua eh io sto facendo tutto qua intanto una sfida in meno sono accattando roba che cos'è il cristallo cosa sa è da usare nella slot machine nella città che ti dà premi armi robe ah ok prendi lì e quelli viola si si prendi tutto io ho preso scudi questi no missile magico ah sono le granate queste qua ah ma hai visto che c'era qui le munizioni non mi dire davvero eh si ah ma io ho trovato tanto le casse vabbè intanto abbiamo fatto cosa dobbiamo fare adesso eh adesso aspetta che raccattiamo un po' di roba no no dobbiamo seguire a questo qui ah mi sa di si dai continuiamo se state cercando la regina è prigioniera dello stregone dovrete attraversare le miniere dei nani per raggiungere la sua i nani ok e come dove si arriva capitolo 2 alleati nani alleati però lo scusa flame bro comunque non ci torniamo più abbiamo le queste da finire beh le finiamo cioè le giriamo o torniamo indietro e ci facciamo le queste è quello che stavo pensando se dobbiamo farci la camminata perché andando di qua andiamo a tutta un'altra aria eh faccio tutta un'altra sì 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 infatti infatti allora torniamo indietro e facciamo il restante ti chiamano se ci si può trasportare c'è un problema oh oh hai ragione è un problema eh niente dovevamo pensare aspetta aspetta vieni qua vieni qua qua ci sono delle casse eh ho capito ma non parla di casse no lo so lo so vabbè intanto magari tu possiamo tornarci non so odio quando si va troppo avanti e poi dice vabbè poi lo faccio abbiamo lasciato un sacco di missioni indietro cioè finite però dobbiamo parlare con i tizi che l'hanno date eh vabbè eh ragazzi va avanti eh che ci vogliamo fare cioè andavano avanti avanti così avanti popolo aspetta ma lì abbiamo fatto dovevo scendere per i nani facciamo se la stoppiamo qui in atta registrazione vabbè dobbiamo andare lì e non mi piace neanche il percorso vabbè sono una tomba è dentro lo so le tombe sono brutte e cattive qui del 38 al prossimo video passo e chiudo bella raga ciao aspetta perchè non mi fa uscire ah ecco